Incidente sul lavoro. Questa mattina a Monopoli, nel Barese, due operai sono morti in un cantiere in via La Gravinese. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati travolti dalle macerie durante alcune operazioni di scavo. Le indagini sono affidate alla polizia, sul posto anche i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, le vittime avevano 62-64 anni ed erano di conversano. Un'altra tragedia evitabile, l'ennesima sul posto di lavoro, è il commento del deputato del PD Marco Lacarra. Nel 2022 aggiunge, 1.090 persone sono morte sul lavoro in Italia, tre al giorno. Sono numeri drammatici che ci obbligano a riflessioni profonde per migliorare gli standard di sicurezza osservati soprattutto nei campieri. La mia più sentita avvicinanza ai familiari delle vittime, conclude Lacarra, colpiti improvvisamente da una immane tragedia.